Buongiorno, buongiorno a tutti, un breve aggiornamento sui prossimi quattro giorni che saranno abbastanza intensi. Allora, prima di tutto stasera, l'appuntamento con la prima della scala, faremo una live alla fine di ogni atto, della durata di 10-15 minuti, non di più, anche per darci il tempo di rifiatare e magari di mangiare un boccone. Quindi al fine di ogni atto ci scambieremo le impressioni, le critiche, se sarà il caso di farne, e in buona sostanza ci confronteremo su tutto quello che abbiamo appena visto nell'atto appena trascorso. Domani invece il video con la recensione dello spettacolo nel suo complesso. Sabato le pagelle, le vostre pagelle, già da oggi, già da stasera, troverete sul community tab del canale una serie di sondaggi con i vostri voti sulle performance degli artisti e dei tecnici, delle maestranze, insomma, è di tutto ciò che compone il complesso apparato di un'opera lirica. Votate quindi da stasera fino a sabato mattina, poi sabato in giornata farò, chiuderò come dire, le votazioni e farò il video delle vostre pagelle. Domenica chiusura col bot perché faremo una live con un ospite Corimbaroni che ci spiegherà esattamente la funzione del direttore artistico e del sovrintendente di un teatro lirico. Perché molte volte ho visto che non c'è, comprensibilmente, insomma, da parte del semplice appassionato di opera lirica la minima percezione di come funzionano i rapporti, diciamo, gerarchici, ma anche decisionali all'interno di un teatro. Ecco, molte volte vi sento dire Eh, ma perché il direttore d'orchestra su questa cosa non si è arrabbiato, non si è impuntato? Non ha detto, no, non ha fatto perché non aveva il potere di farlo, perché, come dire, nell'organigramma, come di un'azienda, anche di un teatro, ci sono delle gerarchie che vanno rispettate. Quindi parleremo esattamente del ruolo del direttore artistico nella scelta dei cantanti, il direttore, il regista, insomma, e di tutte quelle che sono le decisioni che vanno prese all'interno di un teatro lirico, che sono veramente tante. Per cui prepariamoci a questo lungo, lungo fine settimana insieme, condividete il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo più tardi.